Mackie non è un poliziotto, è al capone con un distintivo. In una Los Angeles sporca e brutale, un gruppo di quattro detective del Dipartimento di Polizia ha un rapporto ambiguo con la criminalità. Sono corrotti e non conoscono limiti. Arrestano i criminali, ma più spesso ci fanno accordi. Influenzata da alcuni episodi realmente accaduti e poggiandosi su solide basi, come una ELE meno conosciuta e un gruppo di attori molto, ma molto dotati, The Shield è una delle serie TV più innovative e adrenaliniche dei primi anni 2000, ora disponibile su Team Vision. Apprezzata dalla critica oltre che dal pubblico, la serie è riuscita a raccontare quel lato oscuro della guerra al crimine che affligge gli Stati Uniti. Sette stagioni e 88 puntate, ritmo adrenalinico e autentico realismo, scene d'azione che prima di The Shield avevamo visto solo al cinema. Grazie.